Ormai da circa un anno Gasperi Accardo sta facendo una vera e propria gara di raccolta alimentare, adesso si sta passando anche alla raccolta di abbigliamento. La solidarietà al centro dell'attività della tua vita ormai diventata, per aiutare i cittadini che si aiutano tra di loro per proprio un dare e avere. Come procede questa tua attività di volontariato? Sì, questa attività sta procedendo in una maniera veramente immaginabile, ogni giorno la cosa sta crescendo in maniera molto evidente, questo mi riempie di orgoglio e mi dà veramente speranza che noi prima o poi potremo cambiare le sorti di questa nazione. Tutti sanno la storia delle mie azioni che è partito dal 2013 dai cortei di manifestazione contro la crisi, poi piano in pianino l'esperienza, le conoscenze con le persone abbiamo capito che la protesta era in Italia morta e quindi la crisi ogni giorno andava più a farsi evidente e abbiamo iniziato con varie associazioni che noi collaboriamo a fare, proprio qui a Mazzara del Vallo, delle azioni di raccolta alimentare per aiutare le famiglie mazzarese in difficoltà. Purtroppo a Mazzara sappiamo tutti della crisi profonda data dalla mineria e le condizioni di abbandono dei cittadini mazzarese. Purtroppo molti cittadini mazzarese sono a livelli, cioè tutta la città è in crisi, tutta la città abbiamo dei problemi economici, però una buona parte ancora riesce ad andare avanti, ma un'altra parte della città è in abbandono assoluto, ci sono delle situazioni veramente al limite, bambini che non hanno gli elementi fondamentali per la loro crescita, non li hanno neanche vestiti per andare a scuola, per coprirsi, quindi è veramente una cosa molto importante continuare con questa raccolta. Noi abbiamo iniziato circa sette mesi fa facendo delle raccolte nei supermercati della città per darle alle famiglie, la cosa è cresciuta, siccome è stata fatta pure questo, scusa che prendo questo, perché ci sono tante associazioni che fanno questo, però non sono chiare, anche con le Caritas, ci sono tante situazioni che a noi non sono abbastanza chiare, non sono abbastanza pulite, quindi noi abbiamo deciso di farlo perché noi la raccolta la facciamo sul posto e la consegniamo sul posto, le famiglie bisognose vengono lì e dopo un'accurata analisi della associazione familiare vengono lì, si prendono i prodotti che servono ed è un'emozione molto bella, le persone che sono lì, che vengono a fare la spesa si emozionano perché non credono, tante persone non credono a questi aiuti reali, ma una volta che viene fatto nel posto e con il proprio occhio uno vede la realtà che ha di fronte, è un'emozione, è una forza che ti dà ad andare avanti, a credere, perché le persone che vengono a chiedere aiuto capiscono che non sono abbandonate, che c'è una speranza che altri cittadini, perché io voglio, è una cosa bella perché cittadini che aiutano altri cittadini, siccome siamo in abbandono, e non è soltanto la raccolta, è pure un interscambio, si ritorna al baratto di una volta, perché la raccolta che facciamo di vestiti, chi ha bambini di tre anni, se li viene a prendere e ha altri figli più grandi e lascia proprio i vestiti e quindi un interscambio, un aiuto uno con l'altro, veramente bello, veramente una cosa che sta allargando, sta arrivando aiuti da altre città che noi siamo ad esempio, Mazzara per ora è esempio di questa realtà che sta nascendo, che si sta divulgando in tutta Italia e stanno arrivando aiuti da Roma, da Milano e altre persone che sono state pure dentro la protesta del 9 dicembre, stanno iniziando, stanno prendendo Mazzara come esempio e si stanno impegnando nelle loro città, nelle loro zone di fare quello che noi a Mazzara stiamo facendo. Per ora chi non è partito a lavorare su questa azione nel proprio territorio sta aiutando noi di Mazzara del Vallo, con arrivi da Roma, da Milano, gente che lavora nella Plasma, noi stanno mandando biscotti, pannolini, vestiti, questa è una cosa veramente che la dobbiamo amplificare, tutte le persone che vogliono partecipare, e qui non c'è nessun, siamo tutti cittadini e siamo tutti utili a questo scopo. Nessun colore politico? Nessun colore politico, anche se c'è l'Associazione Solidarietà Nazionale e tante altre associazioni che collaborano, però la solidarietà non deve avere nessun tipo di colore, qua è un aiuto reale, dobbiamo lasciare fuori i colori politici, i movimenti, perché dobbiamo pensare che veramente molte famiglie hanno bisogno realmente di un aiuto e noi ci dobbiamo dare uno con l'altro, non soltanto nella raccolta alimentare, tutti i cittadini sono abbandonati dalle istituzioni che ci dovrebbero tutelare, sono completamente abbandonati in qualsiasi cosa, stiamo dando famiglie che mi chiedono aiuto da tutta Italia, che sono abbandonati, chi ha figli disabili, sono abbandonati, non riescono a dare delle cure perché ci sono dei costi esosi e la nostra catena di informazione e di amici, aiutarci uno con l'altro, stiamo trovando delle soluzioni per aiutare le famiglie che hanno bisogno di assistenza nel sociale. Ci sono purtroppo tante persone che si sono sfrattate, che non riescono a pagare, anche con la buona volontà, che hanno fallimento con le ditte, con le aziende, anche ora sono pure gli autonomi, i libri dei professionisti, come notari, come avvocati, come ragionieri che sono in difficoltà e chiedono aiuto a me, e mi arrivano aiuti da Avola, da Roma, io non è che posso essere dappertutto, in contatto amici a passaparola, questa è una cosa bellissima, che vanno... Una vera e propria catena di Sant'Antonio, quella che si è creata, appunto, che ti contattano tramite la pagina Facebook Cittadini Mazaresi, se non mi sbaglio si chiama, c'è anche la tua, Gaspare Accardo, dove ti possono contattare. Cosa ti chiedono più spesso? Qual è la richiesta che ti è stata fatta più spesso? Soprattutto quello alimentare, cioè ci sono tante famiglie che non riescono veramente a fare la spesa e hanno bisogno veramente di aiuto, soprattutto economico. Noi, una cosa che vogliamo puntualizzare, importante, non facciamo nessun tipo di raccolta economica, di soldi, poi sapere, questa cosa non esiste nel gruppo che facciamo noi. Noi raccogliamo sia cibo, sia vestite e questa è la cosa che prima e più le famiglie in difficoltà, quello alimentare. E poi ci sono tutte le altre... cioè la gente ormai mi contatta per qualsiasi cosa, se può dire. Per qualsiasi problema cerca aiuto, perché nel mio piccolo e di tutte le persone che mi aiutano, perché una persona singola è niente. Se c'è un gruppo di dietro che ti aiuta, che si muove, una persona sola non può fare niente. Quindi qualsiasi tipo di aiuto, la gente vede che noi ci stiamo muovendo realmente con dei piccoli gesti, la gente prende fiducia e prova la speranza di magari contatto Casparaccardo, contatto questo gruppo che mi può dare realmente una mano. Perché tutte si affidano alle istituzioni per avere un aiuto. E siccome ci sono tante o mai persone che non gli interessa realmente il problema di noi cittadini, quindi noi cittadini proprio ci aiutiamo uno con l'altro e la gente prende fiducia che c'è la possibilità veramente che possiamo darci un aiuto reale, perché se no si va all'abbandono più assoluto. Bene, ricordiamo i contatti per la raccolta di abbigliamento, la raccolta dei vestiti. Di solito vengono raccolti a casa tua, se non mi sbaglio, via Enrico Fermi, 34. Per chi volesse invece contattare direttamente Casparaccardo, può benissimo contattarla nella sua pagina Facebook Cittadini Mazzaresi, ma anche appunto il tuo riferimento personale, Casparaccardo, giusto? Sì, oltre c'è pure la pagina Solidarietà Nazionale Mazzara, c'è la pagina Cittadini Liberi Mazzara e un'altra pagina Cittadini Mazzarese. Ci sono questi punti, queste pagine, tanto per più la cosa gira e più l'aiuto sarà più ampio.